Si è tenuta oggi a Napoli nel Palazzo di Giustizia l'udienza a carico dei 99 posse. Imputati per diffamazione aggravata per un video contro il leader della Lega e senatore Matteo Salvini. I fatti risalgono al 2015. Quando dieci giorni prima di una manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma, Marco Messina, uno dei componenti dello storico gruppo aveva detto aveva detto, il 28 tutti in piazza contro Salvini. Perché Salvini è come si dice a Napoli, una lotta, e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città. A causa di queste affermazioni Salvini fece partire la querela. Salvini ha precisato che il motivo della querela non erano gli epiteti ingiuriosi a lui rivolti ma piuttosto l'invito a prenderlo a calci, in ogni città. Se mi offendono non ci faccio caso più di tanto. Ma se sento qualcuno invitare a prendermi a calci nel deretano ovunque mi trovi ha detto Salvini in aula sento di dover difendere la mia incolumità e quella dei miei sostenitori. Non è una critica politica ma istigazione alla violenza. Io non ho mai invitato nessuno a prendere a calci in culo qualcuno. Ha concluso il senatore immediatamente redarguito dal giudice per il linguaggio utilizzato. Siamo in un'aula di giustizia fa notare il giudice usiamo altro linguaggio. Grazie a tutti.